Ma io temo che saranno pagati, soprattutto perché ho visto che stanno portando una proposta anche in comune a Bologna, almeno una parte del PD ne ha parlato in consiglio comunale, di metterli con uno stipendio circa di 900 o 1000 euro al mese a seguire i disabili, che anche questa è una cosa abbastanza particolare, non so la preparazione da dove potrebbe venire. Io prima ho sentito la gente che è intervenuta giustamente per i lavori socialmente utili, anche gratis, quando io le avevo chieste per gli anziani per inserirli davanti alle scuole, mi hanno detto che non ci sono i soldi neanche per l'assicurazione, trovati immediatamente in Emilia Romagna, invece per gli immigrati che sono arrivati, che chiamiamoli clandestini poi, perché sono richiedenti, ma la maggior parte sono clandestini. Il Fondo Sociale Europeo che arriva, e dovrebbe essere proprio per il reinserimento di quelle persone che per colpa della riforma Fornero sono rimaste fuori dal sistema, buona parte va in richiedenti asilo, che sono sempre clandestini, per loro si trova sempre.